E proprio Zaitsev sarà tra i protagonisti l'8-9 giugno di Mutina Beach Summer, evento di beach volley che porterà campioni e professionisti per due mesi di eventi nei campi del Mutina Beach. Presentato oggi questo grande evento per noi c'era Stefano Michelini. Mutina Summer Beach arriva a Modena presso i campi di Mutina Beach, il grande beach volley, due mesi di grande spettacolo con sfide per tutti, professionisti e non. Prologo di alto livello il weekend dell'8-9 giugno con Zaitsev, Rossini e altri giocatori di profilo nazionale. L'8-9 giugno ci aspettiamo le migliori coppie dell'Italia, da tutta Italia, che verranno qui per sfidarsi e cercare di portare a casa il Montepremi, che comunque comincia a diventare importante, 2000 euro di Montepremi. Come già detto ci saranno anche nomi importanti dal Palavolo Modenese, come Zaitsev e Rossini, che anche loro si sfideranno sui nostri campi. In quest'estate vogliamo far divertire tutti i pro, gli amatori, i ragazzi che giocano a beach tennis. Infatti in quest'estate abbiamo previsto eventi come il B1, che abbiamo già detto, i tornei B3, che sono per i ragazzi esordienti, e poi anche altri eventi riguardanti i giovani, che svolgeremo due tornei under 16, uno a metà giugno e l'altro l'ultimo weekend di giugno. La FIPAV di Modena fa tappa con il suo circuito, che si esnoderà da adesso fino alla fine di luglio, anche in questa bellissima struttura, che ci ospiterà sia per una tappa maschile che per una tappa femminile. Non ci fermiamo qui, perché farà tappa anche il circuito regionale, e ancora di più una tappa a livello nazionale, che è stata annunciata questa mattina, e noi ci ritroveremo tutti qui fra il 7 e il 9 giugno, per il beach tappa serie 1, 2x2, che siamo alla primissima fascia sotto il livello super top nazionale.